Il comune miembro di Fondazione Berea, la Sra. Desiree Cruz, ha spiegato anche la cultura placa che la fondazione produzione va a promuovere la cultura di pellicola. Il Ministro di Turismo vuole fare una mal'impressione per chiare il governo che forza la legge per regolare il modello di all-inclusive. È consapevole che il modello è attrativo per l'atelier, ma è infatti che la legge serve a un interesse di comunità completo. Ma cosa la usa un'conferenza di prensa in Mampassà, junto con il primo ministro, per illustrare la posizione e la preoccupazione dei differenti sectori? Ora penso che lo estende il fenomeno di all-inclusive, ma è già di qualche regolazione. Il Ministro di Turismo vuole fare una buona che è venuta a fare una banca di all-inclusive, ma è infatti che la legge serve a una banca di all-inclusive. Sennò, il Banco è il tempo che la bank è la conoscenza di un'operazione di hotel, non è interesse di un'operazione di hotel, ma è interesse di generare più fondi come possibile, e limitare il daio finanziario come possibile. e questo è quello che mi piace con un all inclusive, la disposizione di cash di all inclusive non è molto alto, il rapporto è molto alto, è un aspetto positivo di un all inclusive, non è generato un plato, non è generato un ganaggio, non è pagato un belasso anche per la destinazione che non è, però è l'interesse generale, è quello che lei ha qui da parte, la decisione di governo, la visione di governo per il futuro, è quello che ma sta a Pisa, e ora noi abbiamo il debate nel Parlamento, mi ha avvisato a me che noi lo poniamo a disposizione, un gran cantidad di documenti, carta che noi riceviamo di tutta l'instanza, per farlo di un muraio e di un hotel, siamo qui. Quattro beachsport in cui operano, quanto siamo trovati in water sports app, solo, non dive solo in una ovette s Shock Grazie a tutti. Ariba e forma di ipi na'aruba.